Faccio l'annuncio per annunciare il lancio del nuovo corso MDCM ad Avezzano, domani ci sarà la lezione di apertura insieme a me e i ragazzi, gli istruttori che mi rappresentano nella zona di Avezzano, che sono Roberto Di Lorenzo e Tani Lanciotti, saremo presenti in tanti. La lezione è aperta a tutti ed è gratuita, venite a conoscerci, insieme a me ci saranno alcuni membri del mio team che mi accompagneranno in questa splendida avventura, invito tutti quanti a venire a toccare con mano questa metodologia di allenamento. Siamo pronti a rispondere ad ogni vostra domanda, siamo pronti lì dalle 20 alle 22, saranno nella zona di Avezzano già dalle ore 18 per gestire alcune cose logistiche, ma dalle 20 alle 22 faremo due ore dove affronteremo le basi e una lezione non dimostrativa soltanto, ma anche una lezione dove si può partecipare, chiaramente tirare fuori dei quesiti sull'argomento, cercheremo di rispondere a tutti, insomma, e il corso si svilupperà dopo la lezione di lancio di domani, si svilupperà il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21 per tutto l'anno sportivo. Chiaramente la mia presenza sarà di una volta al mese per venire a vedere come va avanti il corso, però insomma ho messo a disposizione veramente due professionisti, due brave persone che hanno dimostrato con l'impegno di rappresentare con orgoglio l'MDCM nella zona di Avezzano. Saremo nella palestra di Fernando Gemini, il corso si svilupperà per tutto l'anno nella palestra di Fernando Gemini, e chiaramente vi invito di venire a provare, tra cui verranno anche persone delle zone limitrofe. Niente, che dire, vi aspetto domani ad Avezzano insieme al mio team e ci divertiremo insieme. Mando un saluto intanto ai ragazzi di Avezzano, li ringrazio perché stanno organizzando tutto e stanno curando i minimi dettagli. Niente, perciò un abbraccio ai ragazzi, ci vediamo domani. Un saluto al gruppo MDCM Fight for Safety perché vedo che ogni giorno questo gruppo aumenta di persone, di domande intelligenti, ok? Perciò chiunque vuole essere aggregato al gruppo WhatsApp MDCM Fight for Safety mi invia il suo nome e cognome al numero che è 340 89 15 227 e così sarò felice di aggregato al gruppo dove si parla di cose importanti, sempre inerente al tema. Inoltre ringrazio tutto il mio team che stiamo riprendendo gli allenamenti e vedo tantissimo impegno. Anzi, quest'anno siamo sempre di più, c'è sempre gente nuova. Un abbraccio in particolare a tutte le persone che mi seguono anche da lontano, ok? Con il sostegno anche se non sono fisicamente qui, ma trovo sempre commenti di sostegno e mi spingono sempre a fare sempre meglio. Io di questo vi ringrazio. Ringrazio tutte le persone che commentano positivamente e negativamente sotto il mio canale di YouTube, ok? Che siamo in tanti, iniziamo ad essere 4200 all'incirca. Scusate se non riesco sempre a rispondere a tutti, ma chiaramente tra lezioni varie non riesco a stare appresso a tutti quanti. Però cercheremo di fare vari eventi, tra cui a novembre saremo a Milano. A breve metteremo e pubblicheremo e daremo info più dettagliate a tutti quanti. Inoltre per il discorso del coordinamento nazionale, scusate, del settore nazionale tiro a segno Opest e stiamo sviluppando corsi istruttori per tiratori esperti con un'esperienza minima di tre anni, ok? E stiamo cercando di sviluppare il settore delle armi con professionalità, avendo scelto come l'Opes che stiamo cercando di divertirci, ma quando si tratta di armi ci vuole professionalità e particolarmente mi sono affiancato di persone, docenti, come Pier Giorgio Binetti, che saluto, che praticamente cerchiamo di formare le persone meglio, perché è molto importante sapere cosa si è in mano con un'arma da fuoco e non una banana. E niente, che dire, vi saluto a tutti, vi aspetto a Avezzano e per ogni informazione sono a disposizione, anche se mi scrivete via WhatsApp, il mio numero, ripeto, è 340 89 15 27, chi non vuole scrivere può tranquillamente mandarmi un'email a masterdariocallaracchiocciolagmail.com e come posso vi rispondo. Un abbraccio a tutti e ci vediamo domani.